Mio d'ora. Siamo in un'altra letto. Adesso da ieri. Ieri ho lasciato i ragazzi che mi insegnava. Perciò che ieri mi insegnava. Mi insegnava che ci fosse una venduta. Adesso vado. E' un altro letto. E' un'illiettivo in me da... E' un'illiettivo in me da... E' un'illiettivo in me da... So, tre!